su Italia 1, primi sugar free, secondi U2, terzo Vasco Rossi ce la siamo goduta devo dire alla grande, devo dire a questo brano ci ha portato un sacco di fortuna, una fortuna che vorremmo condividere con voi e quindi è l'ora di condividere insieme a voi l'Eptomania a presto 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 Grazie per la visione!